Esistono delle situazioni in cui portarsi dietro la semplice macchina fotografica non è sufficiente. Ci serve qualcosa di più per portare le nostre fotografie o i nostri video al livello successivo, ma non abbiamo voglia di portarci dietro delle cose pesanti e ingombranti. Ecco che oggi vi faccio vedere una soluzione con cui potete fare molto portandovi dietro tutto sommato poco. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e sono reduce da una intensa giornata di lavoro al FIF di Milano 2024, che per chi non lo sapesse è la fiera internazionale della fisioterapia, salone professionale di fisioterapia. Non so perché la sigla e il nome non coincidano, ma d'altronde a noi non interessano queste cose. Ci interessa sapere con cosa sono andato a fare il lavoro e adesso vi faccio vedere. Prima di cominciare però vi ricordo per chi non fosse già iscritto di farlo subito cliccando il bottone qui sotto e guardate, vedo dalle statistiche che il 60% di chi guarda i miei contenuti continua a non essere iscritto al canale, nonostante gli iscritti siano comunque aumentati. Io vi invito a iscrivervi perché non costa nulla e così rimanete sempre aggiornati. Comincio col farvi vedere quello che è stato realizzato. Noi abbiamo fatto delle fotografie dello stand del nostro cliente. Le fotografie si sono articolate in più fasi, nel senso che abbiamo fatto i ritratti dello staff, però abbiamo fatto in particolare le foto dello stand. Ora le foto dello stand le abbiamo fatte in due modi diversi. Abbiamo fatto le classiche foto run and gun, quindi semplicemente delle foto girando intorno allo stand e cogliendo dei momenti salienti, ma abbiamo anche fatto delle fotografie su tre piede con una posa lunga per avere l'effetto delle persone che si muovono, per dare all'effetto l'idea del movimento, l'idea del passaggio delle persone, ma senza prendere le persone. Quindi sono fotografie di facile utilizzo perché non c'è bisogno di liberatorie, non ci sono problemi legali di nessun tipo perché le persone sono sfocate e quindi non abbiamo il problema di dover chiedere liberatorie o porci domande quando si va al momento della pubblicazione sui social media o quant'altro. Come si fa a ottenere l'effetto mosso? Bisogna allungare i tempi di posa. Il problema qual è? Che non sempre è possibile allungarli di così tanto mantenendo l'esposizione corretta. Ecco che per questo viene in nostro soccorso questo set di filtri di Freewell che mi hanno gentilmente omaggiato. Di questi ho già parlato in un video precedente, per cui ve lo linko qui sopra. Non parliamo tanto di filtri oggi perché ne abbiamo già parlato, quanto piuttosto vi faccio vedere un'altra cosa che mi è stata omaggiata sempre da Freewell. E qui abbiamo un travel tripod che ho trovato molto interessante e adesso andiamo a fare un unboxing e attenzione signore e signori, emozione perché lo stiamo facendo davvero, stiamo unboxando un prodotto. Sapete che io di solito li faccio finti gli unboxing e anche questo è finto perché io l'ho già aperto e l'ho già anche usato, però siccome l'ho riposto esattamente com'era andiamo a fare l'unboxing giusto a favore di camera. Set di brugole che servono per la regolazione di alcuni snodi. Qui abbiamo un aggancio per la zampa con un'altra brugola supplementare e c'è anche un blocca cavo, mi sembra di capire. Quindi se abbiamo il cavetto o cose del genere possiamo bloccarlo. Custodia. Sapete che io mi emoziono sempre quando c'è la custodia fornita con la sua tracolla. Un tessuto carino, quindi tanta roba. Io sono contento quando ci sono queste cose. Ma veniamo al pezzo forte. Pezzo forte molto ASMR. Ok. Caratteristiche di questo treppiede. Innanzitutto, lo vedete, è piccolo. È veramente piccolo. Questo qui sta veramente in uno zainetto. Solito sistema che abbiamo già visto altre volte. Dello snodo della gamba, quindi con un rapido movimento si apre e con un altrettanto rapido movimento si chiude. È bello duro, quindi non si aprirà per sbaglio. Questo ovviamente vale per tutte le gambe. Veniamo alla testa. La testa è la cosa che ho trovato, non dico particolare, però l'ho trovata riuscita come prodotto. Nel senso che ha il solito manipolo per l'orientamento. Dopodiché ha una testa sfera. Quindi vedete, è vero che ha il manipolo per l'orientamento, però ha una vera e propria testa sfera con cui si può andare in orizzontale, in verticale. E questa l'ho trovata una cosa comoda, perché comunque è una cosa che può servire, soprattutto se si scatta con cellulare. E questo è un treppiede che è particolarmente adatto anche per mobile. Quindi questo lo andiamo a rifissare. Un'altra cosa che ha, ovviamente, è la rotazione sull'asse. Devo dire, molto morbido, molto fluido. Questo è un treppiede pensato per video, perché ha dei movimenti veramente molto fluidi. ci permette di fare delle carrellate di tutto rispetto, anche con una strumentazione dedicata. Quindi non è da sottovalutare questa cosa. Dopodiché abbiamo un meccanismo per quanto riguarda la piastra, che ho trovato interessante, perché qui abbiamo una rotellina rossa, che noi andiamo a svitare, e questa serve per far ruotare la testa. Quindi abbiamo un'ulteriore rotazione della testa. Dopodiché la seconda rotellina nera, andiamo a svitarla e questa serve per la rimozione della piastra, che poi va fissata sotto la nostra fotocamera o sotto il nostro dispositivo, quale che esso sia. Una cosa che ho trovato molto carina è che questa piastra ha un meccanismo per cui vengono fuori dei piedini, ci vogliono le unghie, ecco, vedete, vengono fuori dei piedini e qui dentro noi possiamo mettere un telefono cellulare. Quindi possiamo andare ad agganciare il telefono cellulare qui e questo si attacca direttamente. Quindi se ci siamo dimenticati dell'attacco per il cellulare, qui abbiamo la possibilità di mettere il nostro cellulare e attaccarlo per fare le nostre riprese. Questa è una cosa ulteriore che ho trovato carina. Abbiamo la bolla, se vogliamo andare a livellare la nostra ripresa. Abbiamo un'altra manopola rossa qui sotto che serve per la regolazione dell'altezza, quindi possiamo andare a aumentare o diminuire l'altezza. Ovviamente possiamo smontarlo e metterlo a livello del terreno, le solite cose che abbiamo già visto con altri tre piedi che però erano più grossi o erano magari dedicati al mondo fotografico. Questo va benissimo per fare foto, infatti io l'ho usato per fare foto, ma è più dedicato al mondo video perché con queste feature, con questa testa che ruota e che si orienta in questo modo è l'ideale per fare delle carrellate, per fare dei movimenti o per fare delle panoramiche. Cioè nel momento in cui io mi posiziono, qui ho le tacche, quindi faccio una foto, poi mi sposto di tot altra foto, poi mi sposto di tot altra foto e faccio la mia panoramica che poi compongo in post-produzione. Nel mio caso non abbiamo fatto panoramiche perché non erano richieste, quello che abbiamo fatto è stato semplicemente realizzare delle fotografie con posa lunga. Quindi abbiamo utilizzato questo trepiede che non è altissimo, questo va detto non è altissimo, quindi per alcuni degli scatti ho messo il trepiede sopra un tavolo o sopra un muretto o sopra dei supporti fissi o mobili che ho trovato in loco. Come mai vi parlo oggi di questo prodotto? Beh, perché dovete sapere che esiste una molteplicità di situazioni professionali e non dove con una strumentazione ingombrante non vi fanno entrare. Quindi in questo contesto una strumentazione leggera e portatile può essere assolutamente un salvavita perché dà meno nell'occhio, perché ce la lasciano passare più facilmente, perché ci creano meno problemi, perché siamo più leggeri e di conseguenza più agili perché abbiamo meno ingombro da stipare. Quindi anche nel momento in cui siamo a una fiera, magari abbiamo un guardaroba, abbiamo meno roba da lasciare in guardaroba, siamo più agili negli spostamenti. Quindi è un contesto dinamico e ci serve qualcosa di dinamico che si possa portare in giro tranquillamente senza ingombrare, senza appesantirci, senza dare nell'occhio e senza creare intralcio per le altre persone. C'è una cosa ulteriore da dire, questa l'ho trovata molto interessante, c'è una delle gambe che ha un simbolino qui che può essere trasformata in monopiede, quindi questa può essere smontata e diventa un monopiede che possiamo usare per delle cose un po' più agili, per fare delle riprese magari dove il trepiede non è consentito. Quindi è una soluzione veramente molto completa. Ovviamente stiamo parlando di costruzione in carbonio, è leggerissimo e come detto è piccolo e entra in qualunque zaino. La cosa interessante di un dispositivo come questo, a mio modo di vedere, è che si presta molto bene per la fotografia tradizionale e per il video tradizionale. Infatti, come detto, abbiamo delle finiture, sono robuste, le finiture hanno retto senza problemi una mirrorless e una reflex di quelle, anche di una volta, di quelle un po' pesantucce. Quindi è una costruzione fatta bene, ha delle belle finiture, non c'è niente da dire. Con Freewell devo dire che sto vedendo dei bei prodotti a livello di finiture e a livello di design, perché comunque, al di là di essere bellino, però è congegnato in maniera tale che con poche cose, con pochi snodi, ti permette di fare tutto quello di cui hai bisogno. Lo puoi orientare veramente in tutti i modi che ti vengono in mente e puoi addirittura, vedete la cosa, qui puoi addirittura orientare separatamente le varie parti. Quindi dopo che l'abbiamo messo in verticale, volendo possiamo addirittura tiltarlo ulteriormente. Quindi fa veramente tante cose, è molto completo per quello che fa. Ovviamente si tratta di un treppiede da viaggio, quindi non possiamo andare a mettergli dei carichi eccessivi e non lo considero un treppiede heavy duty di quelli che si portano sempre in giro, si sbattono male in macchina e si trattano male. Non lo considero un oggetto da maltrattare in tal senso. Però è un oggetto carino che può essere molto comodo quando siamo in una situazione di viaggio, un contesto un po' dinamico dove vogliamo comunque portarci a casa qualcosa di professionale, ma senza avere un ingombro eccessivo. Era proprio il caso della fiera dove sono stato a realizzare questo lavoro perché io non volevo e non potevo avere un carico eccessivo perché comunque un contesto di fiera sì, ti lasciano entrare con la strumentazione, però non ti fanno portare tutto quello che vuoi. Quindi devi comunque fare dei compromessi e io ho detto piuttosto che portarmi dietro 20 chili di roba che avrei potuto magari portare in altri contesti, questa è una soluzione molto pratica, molto comoda che mi ha permesso di lavorare bene, di portarmi a casa oltre alle foto run and gun anche qualcosa di un po' più carino da far vedere al cliente. A questo punto amici fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, vi lascio tutti i link del caso nel caso foste interessati a vedere le specifiche dettagliate di questo prodotto. Ripeto, io l'ho trovato molto carino, non è adatto a tutti i contesti che mi trovo ad affrontare, però c'è anche da dire che una cosa del genere io posso tenerla in macchina, non occupa, occupa zero spazio e posso portarla letteralmente ovunque io vada. Quindi vi farò sapere nei prossimi video se ci saranno aggiornamenti. Nel frattempo vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e io e Freewell vi diamo appuntamento al prossimo video. iscriviti al canale Grazie a tutti.